Nel giro di 20 giorni avremo una risposta, non necessariamente, purtroppo potrebbe essere la risposta che tutti ospichiamo, cioè che possono rientrare in casa. Altre 16 famiglie delle palazzine Ater numero 2325 di via 28 dicembre nel quartiere Fonte Grande di Ortona devono abbandonare gli alloggi. Il sindaco Leo Castiglione ha firmato l'ordinanza di sgombero di concerto con l'Ater di Chieti per consentire ulteriori approfondimenti sulla staticità dei due edifici gemelli della palazzina sgomberata lo scorso 6 di ottobre e a rischio crollo. L'Ater, che questa mattina ha incontrato gli inquilini rassicurandoli il rispetto al lavoro che si sta facendo anche per trovare degli alloggi provvisori nelle strutture ricettive della città, ha chiesto a Regione Abruzzo di destinare il milione di euro stanziato per l'avvio del super bonus 110% proprio per gli edifici danneggiati. Avviata anche una ricognizione degli appartamenti sfitti ad Ortona. Se queste palazzine, cioè la 2 e la 3, verranno definite inagibili, noi abbiamo il dovere di non considerarle più nel patrimonio di Ater e probabilmente sfruttare e cogliere le opportunità del bonus 110% e di demolirle e ricostruirle. Con queste notizie che girano oggi abbiamo un po' paura e non sappiamo che fine facciamo. Attende una sistemazione da parte dell'anno. È normale, attendiamo questa sistemazione che ci ha detto il presidente dell'istituto e speriamo che sia vero comunque. Andiamo avanti. Nella relazione tecnica stilata dall'ASDEA-SRL di Pescara sulla palazzina 1, si legge che le misurazioni effettuate, le calcolazioni preliminari e i documenti disponibili hanno evidenziato il grave stato di precarietà e che non è possibile affermare se le palazzine 2 e 3 gemelle della 1 siano sicure. Sempre i tecnici che hanno stilato la relazione hanno evidenziato che alcuni pilastri della palazzina 2 erano già danneggiati dal 1984 e per questa ragione erano stati prescritti degli interventi urgenti di rinforzo, ma dalla documentazione disponibile e dal sopralluogo effettuato, si legge ancora, non è stato possibile confermare che gli interventi previsti siano stati effettuati correttamente. Nel frattempo la palazzina 1 pericolante è stata posta sotto sequestro dal PM della procura di Chieti titolare dell'indagine, Mari Caponziani, che come atto dovuto ha iscritto nel registro degli indagati il presidente di Aterchieti, Antonio Tavani, e tre tecnici. Ora si procederà con il puntellamento per consentire il recupero degli effetti personali. Il puntellamento è necessario per far recuperare tutti gli effetti personali, mobili, tutto quanto all'interno degli appartamenti, agli inquilini che attualmente sono stati evacuati. Nel quartiere comunque la preoccupazione dei residenti nelle altre palazzine popolari è palpabile e si mischia alla rabbia per lo stato di degrado in cui versano gli edifici, nonostante le sollecitazioni e i reclami che da anni gli inquilini fanno nei confronti dell'Ater di Chieti. È un assurdo, è un assurdo.